Cesar Palace, per i vostri banchetti a Giardini Naxos, scegliete l'atmosfera romantica e raffinata del Cesar Palace Hotel. Affidatevi per il vostro ricevimento di matrimonio. Battesimi, comunioni e cresime, anche per feste di laurea, compleanni, feste di addio al nubilato, cene aziendali e natalizie, cene a tema. Si organizzano eventi con il medesimo desiderio di soddisfare le esigenze sia degli organizzatori che degli invitati. Un responsabile della direzione sarà a vostra disposizione per consigliarvi e concordare ogni dettaglio del vostro banchetto, dal menu all'allestimento. Per ogni evento il Cesar Palace Hotel include nel prezzo il parcheggio e il garage interni all'hotel, gli addobbi floreali, la stampa del menu e la camera per gli sposi la notte del matrimonio. A richiesta provvede all'intrattenimento con musica dal vivo e altri servizi aggiuntivi, confettata, angolo con sigari e distillati, spettacolo pirotecnico.